State ascoltando SPS Italian Non c'è l'altra migliore introduzione al tema Tra l'altro ero indeciso, caro Gallo, se scegliere questa che vi sembra la più ovvia Me l'aspettavo questa Però guarda, ne avevo selezionate in realtà tre Erano gelato al limone di Paolo Conte Questa, e poi fotoromanza di Gianna Nannini Perché a un certo punto dice questo amore è un gelato al veleno Poi sono arrivati i maestri e li ho fatto scegliere a loro Perché io non sapevo, se no avrebbero messo tutto il tremolo dietro l'altra Quindi questa canzoncina di Enzo Ghinazzi in arte, Pupo Che noi abbiamo intervistato un sacco di volte Perché è venuta in Australia un sacco di volte Ci porta direttamente nel fresco e dolce mondo del gelato Siccome noi, quando di SBS Italian, quando si parla di gelato Però solo di gelato, vogliamo farlo bene, 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 bene Caro Paolo, abbiamo qui non uno, non due, ma tre ospiti in studio Addirittura, sono i membri della squadra che rappresenterà l'Australia All'Asian Gelato Cup, il torneo di qualificazione per il continente asiatico Per accedere alla rinomata Coppa del Mondo del Gelato Che si tiene ogni due anni a Rimini in Italia Intanto salutiamoli, li vuoi presentare tu che ce li hai lì di fianco? Sì, guarda, così apro il microfono uno alla volta Intanto c'è il commissario tecnico Alessandro Urilli Ciao Alessandro Ciao Andrea e buongiorno a tutti Poi ci abbiamo i due maestri Andrea Scinardo Ciao Andrea, ciao a tutti E poi ci abbiamo Ryan Stevenson Oh, Ryan Stevenson Good morning Oh no Ah, bravo, sei again? Buongiorno Ah, visto, parla italiano meglio di me Direi perfetto Perfetto, allora, dunque Competizione della Asian Gelato Cup Che si terrà a fine ottobre a Singapore C'è tempo, però il fatto è che l'abbiamo chiamati Perché entro il 5 agosto dovevano presentare menu e ricette del gelato Chiederò poi a Alessandro di spiegarci come funziona il torneo nel dettaglio Ma intanto partiamo proprio dalle ricette Cosa avete, con cosa vi presentate? Ok, so, per molto così brevemente È una selezione di gusti che vengono praticamente testati E finalizzati attraverso questo training Processo di allenamenti che si è già stato messo in atto I gusti vengono selezionati a secondo del tema Il tema è patrimonio culturale dell'Australia E infatti uno degli ingredienti principali sarà per esempio il macadamia nuts E poi ci saranno altri Però ecco, non si produrrà solamente gelato Si faranno dei dessert a piatto, del gelato, della torta a gelato Vaschette in gelato E poi tutto contornato con una scultura Che può essere esclusiva del 60% in cioccolato E altro può essere zucchero filato, zucchero tirato e quant'altro E io pensavo il 60% cioccolato per il restante 40% qualcun altro l'ha già mangiato E faceva anche rima E faceva anche rima Ma io sono curiosissimo di come funziona la competizione Cioè ci sono, cosa c'è? Un girone a gruppi, ottavi, semifinali Ma è soprattutto l'arbitro Cosa fa? Mangia tutti i gelati Come esiste? Non è vero che Gallo ha mandato una mail al comitato Ovviamente Candidandosi come membro della giurità Mi sto rendendo conto Ma, allora, ok Non ci sono ulteriori qualificazioni C'è un punto di arrivo che è Rimini Che si dovrà fare attraverso questa selezione Sulla parte asiatica Qualsiasi continente ha la sua selezione di casa Ecco, questo è E per quanto riguarda l'Australia Noi dobbiamo andare a Singapore Perché quella è la sede principale Dove si terrà la selezione asiatica Esatto E lì ci saranno ogni paese asiatico Dal Giappone, alla Cina, all'Indonesia, alla Thailandia E Singapore Quindi La Corea c'è anche? Certo, certo Ogni paese asiatico No, che mi interessa Poi dipende Dipende perché, ecco Per esempio E qui entra in gioco il discorso Di avere selezionato la squadra perfetta Perché non sempre Non tutti gli anni Si trovano i candidati perfetti Ha detto anche Spalletti questo È vero No, no, dai Mi auguro di avere più fortuna Ma, e quindi Gallo vuole sapere Sono sicuro Scusa se mi prendo la briga Ma è quest'arbitro? Cosa fanno? Allora, esatto Cioè non c'è un unico arbitro, Andrea Eh no, anche perché se no Il colesterolo Eh no, altrimenti collasserebbe Certo No, quindi la giuria è composta da ogni team coach Quindi Ah ok Deve ha delle altre squadre ovviamente Esattamente Esattamente Cioè tutte le squadre che portano Quindi si prevede una grande onestà Intellettuale proprio Assolutamente Perché se deve giudicare contro magari la squadra No, hold on Il giudice di squadra, di appartenenza Non ha diritto di giudicare la sua squadra Sì sì, no Dico, ma come uno deve giudicare gli altri? Ci vuole una grande onestà intellettuale Nel non dare quel mezzo punto in meno Come dire Passiamo Beh, sfortunatamente questo qui accade molto spesso e volentieri Perché appunto E poi entra in gioco molto la simpatia La personalità delle persone Questo qui non è solamente Una questione di professionalità E di saper fare le cose E anche come ci si presenta Che purtroppo No, purtroppo Grazie a Dio È un vantaggio per chi sa comportarsi Ecco Perché se siamo simpatici agli altri Questo Quindi carta simpatia è una carta da giocare Essenziale direi Immagino Immagino Senti Andrea Io so che per quanto riguarda i mondiali L'Italia è campione in carica Me lo confermi, giusto? Sì sì Ha vinto la scorsa edizione Questo giornale Perfetto Quindi tornando al paragone col calcio Stiamo parlando di altri Ben altri risultati qui E anche nel 2006 Sarà la favorita numero uno O ci sono altre nazioni Che nel frattempo sono cresciute? Sì, credo che sia una delle avversarie Che dobbiamo temere Perché l'Italia gioca in casa E sono molto bravi Ah, c'è il fattore campo proprio Il fattore campo, sì Sì Sì, sono bravissimi Vabbè Comunque abbiamo degli italiani in squadra Ma ci abbiamo anche un australiano Ryan And Ryan Ti vorrei chiedere What's your favorite gelato flavor? Citron Lemon Al limone Vedi dovevo mettere la canzone di Paolo Conte Mannaggia Eh, l'avevi beccata And you're working at MCG But you have a big experience with chocolate Absolutely Yeah What do you particularly like about being a chocolatier? It makes people happy But it's the same with gelato That's why we do this competition In the end We want to make people happy Eating ice cream It's a great way You know you're right That's it Esatto Allora dunque Abbiamo parlato un po' di come funziona Ricordiamo intanto a coloro all'ascolto Se vi foste messi all'ascolto adesso Che abbiamo qui davanti il team Australia Che parteciperà all'Asian Gelato Cup Il torneo di qualificazione per il continente asiatico Che determinerà i tre rappresentanti del continente asiatico Che parteciperanno alla Coppa del Mondo di Gelato Che si terrà a Rimini in Italia nel 2026 Italia appunto campione in carica Gallo Correggimi Volevo chiedere Quali sono un po' i team più forti Diciamo le squadre Le squadre più forti diciamo in giro per il mondo Quelli da temere Quelli che proprio di te No questi qua sono veramente bravi Ma ok Se si parla a livello mondiale Bisogna parlare appunto quando si arriva in finale Perché lì c'è l'Europa I paesi da temere maggiormente sono gli europei E' per questo che hai scelto comunque Di venire qui in Australia No ma anche persone italiane O altre persone che hanno lavorato per tanti anni in Europa Ma non solo Anche perché i candidati che ho scelto C'è un criterio da seguire sotto una panoramica professionale La scelta di per esempio Andrea perché è un professionista nel settore del gelato Ed altro Infatti nel caso di Ryan ha delle capacità diverse Che fanno complemento a quello che dovremmo presentare Quindi Sì le squadre Per tornare un attimino alle squadre Da temere qui in Asia Sono comunque Le prevalenze sono Giappone Eh sì Singapore Perché gioca in casa Ma sto fattore campo ma perché? Cioè conta Conta Per i tifosi Per gli ingredienti magari Perché conoscono meglio Guardate ragazzi Bisogna considerare il fattore tifo Perché il fattore support Poi sono tutti in sugar high Quindi c'è Capito com'è Ciao davvero Quindi bisogna considerare quello Ma anche perché professionalmente comunque si sono molto formati Nel corso degli anni Negli ultimi 10-15 anni Questi paesi sono cresciuti a uno sviluppo abbastanza veloce E qualitativamente parlando Alto Questo è grazie a chi? Grazie a queste competizioni Grazie a questo Di Quest'opportunità di Contracambiare Di condividere Perché la competizione non è solamente arrivare e vincere e portarti a casa il trofeo No E anche festeggiare la vittoria E anche Una bella bottiglia Ecco Quindi Passeranno le prime tre Quindi siete Ora non voglio venire a fare Uh la gufata Però insomma siete Consci delle vostre possibilità Andrete a giocarvela? Assolutamente Assolutamente Io infatti A volte Mi posso rendere anche un pochino scomodo Ma quando si parla di professionalità E di portare E di portare La qualità personale Tra professionisti come noi È importante Mettere questa questione sul tavolo Rischiare il tutto Sempre mantenere Sempre mantenere un bilancio di vita Ovviamente Perché non è che Insomma si continua a vivere E non tralasciare C'è una vita al di là Oltre il gelato Assolutamente Assolutamente Oltre la competizione In generale Perché Cioè competere a livelli mondiali C'è sacrificio Lavoro Ricerca Studio Impegno H24 E una domanda per Ryan Ryan I know you lived abroad For 20 years Am I right? Absolutely Where did you live Your best experience In this area? Belgium Belgium I stayed there For almost 16 years And it's a fantastic place to be How beautiful So Belgium is good Especially for chocolate For chocolate and beers I know Chocolate, beers, fries And also it's only like 10 hours To the south coast of Italy I would say It's a happy life in Belgium Exactly La felicità è in Belgio Caro Andrea Che ci facciamo in Australia? E' vero Poi non c'è bisogno Del visto Comunque Chiediamo anche Agli altri due Parto da Andrea Consigli per noi Poveri amanti del gelato Ecco Vogliamo un po' di dritte Prima di tutto Cos'è secondo te Andrea Che rende un gelato Un grande gelato? Usare Ottimi ingredienti Metterci tanto amore Quando uno lo deve fare L'amore L'amore Vince sempre Alessandro Invece Mettiamo Dacci un consiglio Proprio per noi amanti Siamo fuori da una gelateria Vedere Non vedere il gelato Cioè nel senso Le gelaterie Devono averlo All'interno di alcuni contenuti Esatto Nel possetto Quindi La collego Alla domanda di Andrea Ok Ma Personalmente Personalmente Sì concordo Ma fino a un certo punto Perché Perché poi Io Essendo un creativo Di natura Amo vedere le cose Vederle belle Colorate Profumate Benché il gelato Non si può profumare Però si vede L'igienità Si vede Appena si Valca La soglia Della porta Quello è il primo Diciamo Intuito Che si deve avere La pulizia La pulizia Quindi si va lì col dito Sulla panchina No non ha neanche bisogno Neanche bisogno Perché si vede già da fuori Che cosa Il livello Quindi l'ordine E di gestione Esatto Ok E poi La seconda Purtroppo Purtroppo È il servizio Il servizio Con i quanti I genici Insomma Ci sono delle attitudini Da prestare Quando si Serve Il gelato Che si può servire Anche in vaschetta Bellissimo Ma La qualità Vera e propria Si fa il testo Quando si porta fuori E si mangia Nel senso che No no Ma nel senso che Quando un gelato Viene correttamente bilanciato Perché c'è molta scienza Dietro A una ricetta Del gelato Non è solamente Mettere uova Come aggiungere Del sale E dell'acqua No C'è un bilanciamento Che deve essere Scientificamente Messo in atto Quindi se uno Si porta fuori Il cono del gelato Appena tocca I 20 gradi fuori Inizia a sciogliersi Si riporta indietro Si riporta indietro E si richiedono i soldi Perché quello Non è un gelato Ma è una granita Però prima si mangia Già che ci siamo Sì una maccata Te la puoi dare Allora in chiusura In chiusura Ryan ha detto Il suo gelato preferito Al limone Alessandro Battuta al volo Gianduia Gianduia Andrea Pistacchio Gallo Pistacchio Pistacchio Non pistaccio Pistacchio Fior di latte Quindi nel frattempo Ringraziamo Il tuo fior di latte Hai detto Io sempre fior di latte Tutto l'anno No l'ho abbandonato anni fa Il fior di latte Alessandro Rilli Commissario tecnico I due maestri Pasticceri Gelatai Cioccolatieri Andrea Scinardo Ryan Stevenson Ragazzi in bocca al lupo Grazie Grazie a te Cliccate mi piace Condividete Commentate Seguite SPS Italian Su Facebook